Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti al webinar La Safety e la Security nelle pubbliche manifestazioni all'aperto viste dalla Polizia Locale. Questo è il nostro quinto e ultimo appuntamento online del nuovo ciclo del 2019 di webinar in materia di semplificazione amministrativa svolto in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Sono Paola Pirani di Forma e Spia, do il benvenuto a tutti voi, come do il benvenuto anche al relatore di oggi, il commissario superiore Lazzaro Fontana, comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche, al quale a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, chiude il nostro nuovo percorso di semplificazione amministrativa, questo nuovo ciclo che è nato per la divulgazione e l'approfondimento in materia di semplificazione ed è coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. Questo percorso fa parte del progetto Pong Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che è stato affidato a Forma e Spia dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Vi ricordo che questo ciclo, che è iniziato a settembre ed è appunto proseguito fino ad oggi, ha trattato diverse tematiche. Abbiamo parlato, come oggi stiamo continuando a parlare, di safety e security, abbiamo parlato delle procedure per la gestione delle onoranze funebri, la semplificazione per imprese certificate e il software gestionale del SUAP. Nell'ambito di questo progetto sono nati tanti seminari, tanti webinar che hanno toccato le tematiche che vanno dalla conferenza dei servizi alla SCIA, al SUAP, il SUE, il commercio, la modulistica unificata e standardizzata, l'impresa, l'edilizia, la digitalizzazione, per semplificare la vita al cittadino, la notifica sanitaria, gli spettacoli e i trattenimenti pubblici, autorizzazione delle imprese funebre, l'ambiente e la semplificazione per le imprese certificate. Tutti questi nostri appuntamenti, tutti questi nostri incontri online e in presenza li potete trovare al nodo eventipia.formex.it 17455 e avrete tutto l'elenco di tutto ciò che è stato svolto in questo periodo. Ricordo inoltre che sempre nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Italia Semplice, all'indirizzo http2.idoppio slash rete.italiasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale, dell'amministrazione, dell'associazione delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, ed è dedicata in particolare allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione di interventi di semplificazione. La rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formex PA nell'ambito del progetto Pong Governance, progetti delivery unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi con le credenziali di FP Out e si viene iscritto in automatico all'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per partecipare alle altre due, ovvero Modulistica Standardizzata e Semplificata o Suop Conferenze dei Servizi, basta cliccare su Partecipa e Chiedere l'adesione. Una piattaforma che offre diversi servizi come Guide, FAC o Chiedi all'Help Desk e che fa un reminder a tutti i nostri webinar e seminari. Andiamo velocemente all'incontro di oggi che è un percorso e un webinar rivolto al personale dell'amministrazione dei SUOP dell'Emilia Romagna ma anche al personale di tutte le amministrazioni dei SUOP delle altre regioni italiane e a coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo l'accoglienza e l'apertura dei lavori, lasceremo la parola a Lazzaro Fontana e per poi avere il nostro spazio di domande e risposte dalle 11 in poi. Quali sono gli argomenti che tratteremo in questo incontro online? L'eventuale parte istruttoria informale della Polizia Locale, l'eventuale parte istruttoria formalizzata della Polizia Locale, l'eventuale partecipazione del Comandante del Corpo della Polizia Locale alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la partecipazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Parleremo poi delle eventuali verifiche in loco e controlli documentali della Polizia Locale prima della manifestazione e i controlli durante la manifestazione, dunque safety, security e varie, e le eventuali segnalazioni e sanzioni amministrative e o penali in caso di violazioni. Ora andiamo a parlare del nostro strumento fondamentale, cioè la chat, nella quale voi scriverete tutte le vostre domande che io riporterò al relatore e nell'ultima parte del nostro incontro ci sarà spazio per tutti i vostri dubbi e appunto avrete risposto a tutte le vostre domande. Per le domande che non si farà in tempo, invece, le potrete trovare poi nei prossimi giorni allo stesso nodo di Eventi Pian nel quale vi siete iscritti e che a breve vi scriverò in chat. Altre comunicazioni di servizio, come tutti i nostri eventi online, troverete la registrazione e le slide dopo l'evento. Dunque a questo punto vi ricordo come ultima specifica che riceverete l'attestato di iscrizione dopo la nostra attestazione solamente coloro che hanno seguito almeno il 20% del tempo e a questo punto, avendovi dato tutte queste indicazioni, non vi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento, un buon lavoro e lasciare la parola al nostro relatore. Buon webinar! Chiedo scusa un secondo che carico la presentazione. Grazie! Buongiorno a tutti! L'oggetto dell'incontro di oggi, o per meglio dire, dell'incontro di webinar che facciamo oggi è stato detto egregiamente da chi mi è preceduto e quindi entriamo direttamente nel merito. Mi spiace, o per meglio dire, io ho questo tipo di caratteristica, il taglio che darò è un taglio della Polizia Municipale, non è un taglio per coloro che solitamente si occupano del back office relativamente alle manifestazioni. Ma credo che avere una visione complessiva della problematica delle manifestazioni dal punto di vista della safety e della security sia importante per tutti, per noi come operatori di Polizia, ma anche e soprattutto per gli amministratori e per gli amministrativi che devono poi curare la parte burocratica di queste attività. Il tempo a disposizione è poco e quindi mi avvio a fare la mia relazione. La normativa di riferimento è molta, forse anche troppa a onore del vero. Vedremo comunque di approfondire alcune cose, ribadisco in modo particolare quelle che interessano di più la Polizia Locale e indirettamente gli uffici SUAP dei Comuni. Per farlo cercherò di semplificare il più possibile anche dal punto di vista terminologico utilizzando qualche volta dei termini impropri, ma che in qualche modo presumo e mi auguro mi facciano capire meglio da chi è all'ascolto. Faccio un piccolissimo riassunto delle puntate precedenti, cioè delle slide che ha presentato la collega Miranda Corradi l'11 settembre, ma veramente un riassunto perché è importante avere questa premessa per poter poi capire quello che io andrò ad illustrare. Le manifestazioni abbiamo visto che sono veramente di 3.000 tipi, non c'è un solo tipo di manifestazione, un solo tipo di spettacolo, ma ci sono tantissime manifestazioni pubbliche che ricadono sotto questa tipologia di controllo, quella della safety e della security. La direttiva del 2018, la creata Pian Pelosi, fa tutta una serie di distinzioni che io oggi non spiegherò perché la Miranda è già spiegata in modo non solo egregio, ma sicuramente meglio di quello che potrei fare io e quindi vi faccio solamente ricordare con lo schema quello che ha già illustrato la Miranda. Dopodiché la Miranda ha illustrato quello che Lanci con una propria circolare aveva detto la cosa più importante è che purtroppo molte tipologie di eventi hanno solamente tre giorni di preavvisi nel senso del testo unico della legge DPS, Lanci dice fatecelo avere almeno 20 giorni prima perché se dobbiamo fare degli atti istruttori e li dobbiamo fare in modo serio e attento a tutela della collettività ci vuole un minimo di tempo e quindi ha indicato come tempo di riferimento un 20 giorni prima per la presentazione delle vari progetti e delle pianificazioni di sicurezza. Ci ha poi spiegato che non ci sono solamente gli spettacoli veri e propri, quelli disciplinati dall'articolo 68, ma che ci sono tutta un'altra serie di eventi disciplinati dall'articolo 18 e 25 del TURBS, in particolare per quanto riguarda gli eventi in se stesse, le manifestazioni senza finalità di spettacolo oppure le processioni e i cortei, per dire ne una per tutti, ad esempio i cortei dei carri mascherati che sicuramente creano dal punto di vista dell'evento una serie di problematiche. Vado avanti, quello che però comunque dobbiamo tenere presente è che indipendentemente dalla tipologia della manifestazione, cioè l'articolo del TURBS o del non TURBS a cui si fa riferimento, in ogni caso l'organizzazione deve presentare un progetto della manifestazione e un piano d'emergenza dal quale si possa desumere se ci sono delle criticità, perché solo lui effettivamente che organizza, che ha la visione complessiva della questione ha idea se vi sono delle criticità, poi noi come tecnici sicuramente dovremo stimolarlo, attenzionarlo e andare nel dettaglio, ma lui è colui che muove il tutto, colui che sa cosa deve succedere e in ogni caso ci deve dire se le sue misure o quali sono le sue misure che lui intende adottare per far sì che queste criticità in qualche modo vengano alleviate. Ribadisco, siamo in presenza di attività che possono avere spettacolo o non spettacolo, l'importante è che ci sia un evento che ha un numero di persone veramente importante o comunque anche se non veramente importante con certe caratteristiche strutturali per far sì che ricadano dentro questa disciplina. Ne dico una per tutte perché probabilmente è una cosa che io non ci avevo neanche pensato, leggendo una rivista e guardando il vostro discorso sui cortei funebri ho visto che c'è stato fatto uno studio specifico sui grandi funerali, perché anche un grande funerale è purtroppo, non per lui che magari fa dell'altro, speriamo su nel cielo, ma è un evento, è un evento che richiama gente, è un evento che di per sé può diventare anche un evento di turbativa, sia per l'ordine pubblica a seconda di chi è il defunto, ma anche per i partecipanti in quanto tale perché appunto c'è una moltitudine di persone che lì devono arrivare e devono essere gestite in qualche modo. La dichiarazione dell'agibilità di cui l'articolo 80 che è il vero nodo centrale di tutto il ragionamento che facciamo oggi sulla safety e la security è una cosa che la devono rilasciare, o per meglio dire la licenza dell'articolo 80 la deve rilasciare un tecnico, la deve rilasciare uno dell'apparato del comune, non la può rilasciare il politico come nel passato invece avveniva e proprio per come è scritta la nuova norma è chiaro che è un compito funzionariale, ma ad ogni buon fine per evitare incomprensioni e per evitare che qualcuno assumendosene anche la responsabilità dal punto di vista sostanziale, ma dal punto di vista formale non ha le caratteristiche, le conoscenze tecniche per potersela poi assumere veramente nei confronti della collettività, il Ministero dell'Interno con una propria circolare la 5.020 del 1 aprile, la data è un pochino foriera di non certamente belle cose, ma del 1 aprile 2014 l'ha detto in modo chiaro e non altrimenti interpretabile. Abbiamo visto poi dopodiché che la Miranda ci ha spiegato che abbiamo delle manifestazioni che rimangono nell'alveo del comune, quindi in commissione comunale e altre invece che devono andare in commissione provinciale. Vedremo poi anche che c'è un altro organismo che è il Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico che qualora sia la commissione provinciale, ovvero il sindaco, ovvero il funzionario addetto in alcuni casi, ovvero il questore negli altri, ritengono che ci siano delle manifestazioni, degli eventi tali per cui è opportuno coinvolgere anche il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, questo viene fatto e anche lui può dare delle proprie indicazioni relativamente a questa manifestazione. Chiedo venia alla dottoressa, ma io non vedo il numero alla rovescia muoversi, continua a esserci scritto 80, credo di aver parlato per qualcosa di più di qualche minuto, poi dopo non le so dire, io tanto continuo ad andare avanti. Operatori della sicurezza. Operatori della sicurezza, siamo di fronte a una manifestazione e oltre alla Polizia Municipale ci sono degli altri attori, delle altre persone che hanno dei ruoli, al di là di quello che ha l'organizzazione in quanto tale. Quindi abbiamo due grandi gruppi inizialmente di operatori della sicurezza, sono i soggetti iscritti alle associazioni di protezione civile riconosciute, il personale in coescienza già appartenente alle forze dell'ordine o alle forze salmate, qui operano ancora il termine vigili urbani, diciamo la Polizia Locale per essere più in linea col titolo quinto della Costituzione, oppure che hanno lavorato e attualmente sono in coescienza nei vigili del fuoco, oppure presso il Servizio Sanitario Nazionale. Queste persone, diciamo così, ipsoiure, vengono considerate in grado di poter gestire questi eventi o essere, per meglio dire, di supporto a chi professionalmente lo fa, purché siano idonei dal punto di vista psicofisico, perché dato che siamo in presenza di persone in coescienza, solitamente anche con le nuove modifiche, anche con la 400, non è che ci vanno dei ventenni o dei trentenni in pensione, se ci vanno vuol dire che hanno dei problemi di altro tipo. Di conseguenza, giustamente, il Ministero degli Interdi, la Circolare Pianpelosi, dice che van bene queste persone, purché dal punto di vista psicofisico, siano idonee. Abbiamo poi anche tutta un'altra serie di operatori, che li chiameremo volontari, che però non basta che siano volontari, cioè persone di buona volontà, in qualche misura devono essere formati. Il vero problema è che questo formati deve essere coniugato. Vedremo che l'Emilia Romagna ha fatto un qualche cosa su una legge che veramente è stata fatta per la Polizia Locale, ma anche lì parla di operatori professionali, non di volontari. Comunque, al momento, in qualche modo, i comuni si sono un pochino improvvisati, hanno fatto dei corsi a questi volontari. C'è chi ritiene che anche un semplice briefing all'inizio della manifestazione sia sufficiente per poter dare delle caratteristiche, delle conoscenze, e sinceramente io ritengo che sia una cosa un pochino azzardata, meno che non siano veramente dei ruoli molto, molto marginali per questi volontari. Ritengo che un corso con un minimo di ore, ma anche una certa ciclicità, cioè periodicità, di tenersi aggiornati sia doverosa ed opportuna, sia per loro, per le responsabilità alle quali vanno incontro, ma soprattutto per i cittadini che si trovano a recarsi in queste manifestazioni, con le famiglie, magari con dei bimbi e hanno tutto il diritto di sapere di essere in un posto che è sicuro sotto l'aspetto della safety e sotto l'aspetto della security. Abbiamo poi un'altra tipologia di operatori di sicurezza, diciamo che è all'interno una subcategoria, che sono gli addetti alla lottante incendio, che non sono ovviamente i vigili del fuoco di cui parlerò più avanti, ma sono persone che hanno fatto degli appositi corsi, questi sì, con un esame finale e hanno un vero e proprio attestato con una varietà di rischi a seconda della tipologia di situazione nella quale andiamo a incardinarci. Abbiamo poi una sub, ho detto che sono due, veramente ce n'è una terza. Parliamo di soggetti professionali, parliamo di soggetti professionali che sono gli Stuart, anche se a onor del vero nell'ultima circolare Pian Pelosi il termine Stuart, cioè questa figura, non esiste più come nome, ma non è stato in qualche modo esautorato da questa possibilità di andare a lavorare, fare la propria professione all'interno di questi eventi, semplicemente non è più citato esplicitamente, tra l'altro vi informo che nei giorni scorsi, un paio di mesi fa, la normativa sull'estuart è stata modificata e che sul sito del Senato c'è un bellissimo approfondimento su cosa può fare e cosa non può fare gli Stuart con anche delle digressioni a livello europeo di altre situazioni che abbiamo in giro per l'Europa. Vi sono poi i cosiddetti ASC, cioè gli addetti servizi di controllo, quelli che il decreto Maroni del 1994 ha cercato di togliere da un limbo e attraverso un corso di formazione abbastanza impegnativo con esame finale li ha professionalizzati. Queste persone hanno anche loro una formazione per gestire ratee di gente, in particolare nelle discoteche e nei concerti, ma sicuramente anche negli eventi sono delle persone professionalizzate che possono esserci di aiuto. Dal punto di vista proprio poliziesco, diciamo così sanzionatorio, permettetemi la digressione, ritengo che però nel momento in cui non fanno gli ASC veri e propri, cioè non sono nei pressi di una discoteca, non sono così convinto che debbono avere tutte quelle caratteristiche esterne per capirci il cartellino, che devono invece avere quando sono all'interno o nell'immediatezza del luogo di divertimento del ballo o altro. Non lo escludo, lo scopriremo vivendo come si suol dire. Certamente devono essere soggetti qualificati perché se no non possono essere con questo tipo di caratteristiche. Vi è poi una terza figura che a onore del vero ancora deve essere implementata perché è stata introdotta nel luglio 2018 nella legge regionale 24 del 2003, che è la legge quadro per la polizia locale in Emilia-Romagna, visto che questo webinar è fatto per l'Emilia-Romagna, ovviamente faccio un inciso sulla nostra legislazione in Emilia-Romagna, che prevede dei referenti per la sicurezza strict tutor. Sono delle figure che nella volontà del legislatore regionale dovranno essere disciplinate con un'apposita delibera della giunta regionale dal punto di vista degli incarichi che può avere, ma soprattutto dal punto di vista della formazione, per poter gestire le aree all'esterno delle birrerie, delle discoteche, per gestire in qualche modo intelligente, con spese a carico del gestore, cioè di chi beneficia degli introiti economici, della Movida. Perché la Movida oggi come oggi è uno dei problemi che hanno sicuramente gli organi di polizia, sia locale che ad ordinamento statale. Su questi però ancora non possiamo utilizzarli, in quanto la regione Emilia-Romagna non ha ancora fatto la delibera attuativa, la direttiva che va a individuare nel dettaglio le materie e le ore del corso che queste persone devono fare per avere questo tipo di qualificazione. Purtroppo l'anno scorso, in agosto, agosto sempre un mese un po' particolare per noi della Polizia Municipale, c'è arrivata una tegola. La tegola è stata la circolare del 6 di agosto che ha come oggetto manifestazioni pubbliche, precisazione sulle attivazioni e l'impiego dei volontari di protezione civile. Leggendo il titolo abbiamo detto che la circolare a noi della Polizia Locale, ma anche alla Polizia di Stato, durante le manifestazioni sarà entrata nel dettaglio. Invece no. Perché innanzitutto gli dice, attenzione cari miei volontari, lo dice il Ministero degli Interni insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi non è che proprio lo dica la squadra di calcio della frazione di Quattro Castella dove io abito. Allora, dice che sono escluso l'uso degli stemmi e degli emblemi, per non fare confusione. La protezione civile o è un intervento di protezione civile o se non è un intervento di protezione civile non deve usare i loghi e gli stemmi e gli emblemi che sono propri della protezione civile. Ma fino qui al limite, il vero problema è che dice no, attenzione, non potete neanche usare i mezzi. Questo complica ancora di più la questione, però dà la via di fuga all'italiana, dice non si può, però se ci vanno a livello individuale, se non ci vanno come protezione civile, ma ci vanno come associazione, che poi fa anche la protezione civile, ci vanno come NC, come carabinieri incoglienti, che tra l'altro sarebbero già abilitati di per sé, ci vanno come incendio boschivo, ma non come protezioni civili in quanto tale, ci vanno come associazione. Ci nascondiamo dietro un dito, ma di fatto questo è quello che dice questa circolare. Ma purtroppo questa circolare dice anche delle altre cose che sono un pochino preoccupanti, perché hanno messo in difficoltà sia chi organizza le manifestazioni, i comuni e le forze di polizia, ribadisco, sia quelle ad ordinamento locale che quelle ad ordinamento statale, perché dice cosa non può fare un volontario di protezione civile, anche qualora ci sia una manifestazione tale per cui venga attivato il COC e quindi si abbia titolo il sindaco qualità locale di protezione civile, a titolo nel momento in cui attiva il COC, a poter anche utilizzare i volontari, perché determinate manifestazioni possono essere tali per cui sia necessaria la presenza della protezione civile e l'attivazione del COC, dice attenzione, se siete lì come volontari di protezione civile, voi non potete svolgere una serie di attività, attività di controllo del territorio tra le quali in particolari servizi di controllo e degli ingressi in luoghi aperti al pubblico, dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, quindi se c'è un concerto mega, loro non possono stare davanti al concerto, non possono stare nei cosiddetti varchi, neanche nei ritornelli, ma dici vabbè li metto appena un po' più avanti, quando c'è un po' meno tensione, non ci sono i biglietti da staccare, non c'è mica la gente che… no, anche questo non è possibile, perché dice è vietato averli nelle aree di rispetto e o di prefiltraggio. Mettiamolo ancora un po' più in là, allora no, è vietato l'adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso, quindi neanche dove diciamo fermiamo le macchine, non dico le persone, le macchine, quindi magari a un chilometro in certe situazioni e a un chilometro anche due dall'evento, no, questo come volontari di protezione civile non è possibile farlo. L'importante è saperlo, perché se lo fanno devono sapere che stanno facendo una cosa che non possono. Sarebbe io da uomo di legge dovrei dire che non lo devono fare, poi ogni comune valuta un attimino le cose, quando lui è il volontario che viene lì in modo individuale, cosa fa? Certamente non lo può fare con la divisa della protezione civile e con gli emblemi della protezione civile, se viene con un'altra divisa che magari, vi dirò fra un attimo, gli diamo noi, una divisa proprio in senso tecnico, c'è un qualcosa che lo divide da tutti gli altri partecipanti quella manifestazione, allora la cosa è diversa, ma se ha la divisa della protezione civile, queste cose non le può fare, ma non solo, dice che in modo esplicito è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, quindi neanche quello che facciamo fare ad alcuni anziani, ad alcuni volontari davanti alle scuole, l'attraversamento magari anche in abbinata con un operatore di polizia delle strade, un attraversamento in presenza magari anche di attraversamenti pedonali, quindi di supporto, perché il codice da strada già darebbe la priorità al pedone in presenza del passaggio pedonale a poter transitare. Quello che ci aggiungono, dicono attenzione, voi in ogni caso, quando utilizzate della protezione civile che ha una formazione specifica per fare dell'altro, dovete fare un briefing e guardate caso strano, quando c'è da fare delle cose di questo tipo, a chi danno l'incarico dico di norma, lo fa la polizia locale. Vabbè, nei fatti è così e quindi prendiamo atto che sia questo. L'altra cosa, a chiusura, che sinceramente forse non ce n'era neanche bisogno, ma l'hanno voluta precisare, perché a volte probabilmente sul territorio della nazione è capitato che gli avessero dato qualche cosina in mano che non potevano avere e c'è scritto che è vietato ai volontari l'uso di palette di rigi traffico. Mi auguro che non gli abbiano mai dato quelle degli organi di polizia, ma probabilmente avevano delle palette che in qualche modo gli servivano e c'era almeno un verde e un rosso. Lo possono fare i movieri di una ditta di asfaltatura, la protezione civile no. Prendiamo atto. Il suggerimento che dicevo, questi volontari che vengono individualmente, non è bene che siano vestiti con la giacca, la cravatta o con la camicetta o con la maglietta di tutti i colori, è bene che in qualche modo li rendiamo divisi, identificabili in questa ottica divisi, da tutti coloro che partecipano a questo evento come spettatori, come soggetti che vogliono comunque in qualche modo acquistare qualcosa se siamo i presidenti ad esempio di un mercato o di una fiera. Ma devono essere identificabili perché indipendentemente dal ruolo, scusate, quindi da che tipo di operatore sei in quel momento, se sei l'antincendio, se sei altra figura, devi essere un punto di riferimento per chi è lì e magari non conosce il posto, non conosce la situazione, sia in eventi di criticità ma anche in eventi ordinari, durante la normale svolgimento di questa manifestazione. Ma adesso cominciamo a parlare di quello che è più specificatamente il compito della polizia locale all'interno della safety e della security negli eventi. Vedremo che è apparentemente marginale ma nei fatti invece è quella che c'è sempre. Questa è un'altra verità, la polizia locale c'è sempre, la polizia e l'ordinamento statale non sempre. Questo non vuol dire che però abbia poteri, doveri, diritti in modo tale che possa assolvere a tutte le incombenze della safety e della security. Ma lo vedremo pian piano andando avanti con le slide. Come giustamente ha detto la dottoressa Pirani, la polizia municipale a volte fa una parte informale istruttoria, traduco, l'organizzatore prima di fare una manifestazione, quindi in ufficio parlo col comandante o con un ufficiale o con qualche ed uno della polizia municipale dice guarda io vorrei fare questa cosa, questa iniziativa, questo concerto, mi può dare qualche suggerimento, cosa posso fare, cosa devo fare, cosa non devo fare, come mi devo muovere. Massima collaborazione, massima disponibilità anche andare sul luogo è opportuno per capire e vedere effettivamente le cose dopo come andranno e dove andranno. quello che però è importante è che questo signore non possa dire me l'ha detto la polizia municipale. Cioè noi non dobbiamo dare ordini, fra virgolette, in quel momento, possiamo dare dei consigli che però il soggetto organizzatore o il tecnico, l'ingegnere, il gestore di quel determinato tipo di evento è lui che si deve assumere la responsabilità di fare il progetto e di fare il piano della sicurezza. Ovviamente ribadisco massima disponibilità, massima collaborazione, ma attenzione perché se entriamo in questo loop è un loop molto molto pericoloso. L'eventuale istruttoria formale presenta anche questa qualche rischio. Mi spiego, l'istruttoria formale è quando prima della commissione comunale in particolare la polizia municipale viene chiamata a esprimere dei pareri su delle situazioni, viabilistiche o non viabilistiche, di occupazioni di suolo o di altro tipo, relativamente a un evento. Ma lo chiedono in modo formale, cioè formale vuol dire scritto. È una cosa che bisogna guardare con molta attenzione. Innanzitutto noi dal punto di vista giuridico non esprimiamo dei pareri, il parere lo dà la commissione. Noi facciamo delle valutazioni tecniche, così dice la 241 del 90. Noi in questa sede siamo dei tecnici. Perché c'è un rischio? Perché noi dopo, soprattutto se la cosa, lo vedremo fra un attimo, va in commissione comunale, siamo in commissione comunale, almeno io come comandante di corpo, sono in commissione comunale a titolo proprio, sono un elemento, un membro obbligatorio, non solo di diritto, ma obbligatorio di questa commissione. E anche lì dovrò esprimere un parere. E se io mi sono già espresso prima, magari senza avere la conoscenza integrale della situazione, senza avere tutti i giudizi degli altri componenti della commissione, perché questo è un collegio perfetto che si esprime all'unanimità, con tutti i suoi componenti, quando tutti hanno fatto le proprie valutazioni di parte e in quella sede lì si può dire anche qualcosina di quello degli altri, ma si ha una visione generale del problema, rischiamo poi di andare in conflitto di interessi. Nella misura in cui invece lo facciamo e lo facciamo e l'atto, per meglio dire, l'evento sarà valutato dalla commissione provinciale di vigilanza, questo mi preoccupa sinceramente già meno. E questo purtroppo succede perché i comuni, gli uffici tecnici, gli uffici cultura, di uffici attività produttive, quando negli eventi di un certo tipo non se la sentono di dare tutto il loro apporto su cose che magari conoscono poco. E anche magari l'ingegnere o l'agenzia a cui viene dato l'incarico di gestire la parte burocratica di questo evento non è sempre in grado di fare e ci viene a chiedere per iscritto un nostro parere. E se esprimiamo un parere per il nostro comune e poi dopo lo valutiamo noi, capite che la cosa diventa molto delicata. Se invece esprimiamo un parere e la valutano altri, lasciamo perdere che il sindaco è presente anche nella commissione provinciale di vigilanza, ma il sindaco ha un'autorità che ha una visione e un ruolo diverso dal nostro e non è un tecnico, come dicevo precedentemente. L'eventuale partecipazione nostra a quella famosa commissione provinciale di cui ho parlato. Noi non siamo membri di diritto, possiamo andare come consulenti del sindaco o da chi è delegato dal sindaco, mentre il sindaco è un componente di diritto della commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e rispondiamo a domanda. Nel senso nel momento in cui ci coinvolgono, diciamo la nostra, ma se non ci coinvolgono facciamo gli uditori. Noi non abbiamo titolo di parlare, men che meno potranno mettere nel verbale sentito il, perché noi siamo lì come consulenti, oppure devono precisare il nostro ruolo, perché attenzione a non dare in quella sede delle valutazioni di safety e di security, perché noi non abbiamo la competenza formale e tecnica, noi abbiamo una competenza per la viabilità. La viabilità è un concetto poi ampio, c'è la viabilità statica, la viabilità dinamica, la vedremo fra un attimo, ma sulla viabilità. Invece se andiamo in commissione comunale, lì siamo membri di diritto barra di dovere, almeno lo sono i comandanti di corpo, perché i responsabili dei servizi, in Emilia Romagna in teoria sono tutti gli enti che non sono riconosciuti come corpo dalla regione, non potrebbero partecipare. Chi partecipa al loro posto? Questo è un problema, la norma non lo dice, ci sono state enti che hanno individuato un comandante di corpo di un altro ente per farlo partecipare, ma perché c'è scritto comandante di corpo? Perché si parte dal presupposto che il comune piccolissimo, dove magari c'è un buon operatore di polizia locale, non abbia la capacità, o per meglio dire la formazione e non abbia la possibilità di aver approfondito una serie di conoscenze tali per cui il suo giudizio sia funzionale il raggiungimento vero della commissione, che è quella di creare sicurezza. Giusto o sbagliato? Non entro nel merito. Sta di fatto che l'articolo 141 bis del regolamento del TURBS parla di comandanti di corpo e il comandante di corpo è una figura professionale, ma in specifica non è il responsabile di servizio. Ebbene lo sanno i colleghi della Polizia Municipale, forse sfugge ai colleghi del suo, ma a quelli della Polizia Municipale la differenza tra comandante di corpo e responsabile di servizio c'è un abisso. La commissione sarebbe bene che però ci desse una mano, predisponendo ovviamente con il nostro supporto, una modulistica da dare agli organizzatori degli eventi che parli di viabilità, che in qualche modo obblighi il soggetto organizzatore o il suo tecnico a entrare in una logica di far sì che anche la viabilità sia un problema che devono affrontare nella pianificazione. Stavo dicendo appunto che ci deve consentire di poter lavorare meglio e lui si deve fare carico sia della viabilità statica che di quella dinamica e la vedremo fra un attimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa modulistica che ad esempio nei nostri enti, nella nostra unione abbiamo è fatta di due parti, una per i partecipanti, quelli che in qualche modo devono essere incanalati per andare verso le zone di sosta, che devono essere all'uopo identificate e che l'organizzatore in base a una sua presunzione, ma tutto che siamo a livello di presunzione finché l'evento non è avvenuto, dice a mio giudizio in base all'esperienza degli anni passati verranno queste manifestazioni 3.000 persone di cui 2.000 saranno in autovettura, solamente 100 con due pullman perché di più non ne abbiamo mai avuti e gli altri sono locali. Dopodiché la commissione si deve anche inventare un coefficiente di suddivisione tra i partecipanti, le persone e il numero di veicoli. Noi se nella memoria non mi inganno abbiamo adottato 2,5, se ogni veicolo è utile al trasporto di 2,5 persone. Vuol dire che se abbiamo 1.500 persone che vengono in autovettura dobbiamo avere 400 posti auto. Attenzione non vuol dire parcheggi sui generis, perché i parcheggi sui generis li abbiamo già occupati dai residenti, vuol dire almeno 400 parcheggi in più dove si riesce. Non è una variante di tipo edilizio perché è occasionale, ma sicuramente dobbiamo individuare delle aree o esterne o non utilizzate ordinariamente, ad esempio se la domenica quella di un centro commerciale, oppure se è inverno quella di una piscina, per far sì che lì ci possano stare delle autovetture. Le zone di parcheggio vanno individuate anche per i disabili, possibilmente il più vicino possibile al fulcro della manifestazione e l'organizzatore deve individuare anche la viabilità di afflusso e di deflusso da questi parcheggi. Ma non solo, deve individuare anche la viabilità alternativa, perché quando chiudiamo dei centri dobbiamo dire alle persone che non sono interessate di venire la nostra manifestazione, che strada devono fare per andare dove devono andare, dove vogliono andare. E glielo dobbiamo dire per tempo, evitando di farli intrappolare dentro delle code se magari abbiamo dei parcheggi a pagamento e quindi questi qui inevitabilmente i parcheggi a pagamento creano un minimo di fila, perché il fatto di pagare crea un rallentamento negli afflussi di entrata. Come vi dicevo, questa cosa qui deve essere talmente a carico dell'organizzatore che l'organizzatore, a meno che gli uffici tecnici e il settore operaio non si faccia, lui, carico di tutta questa operazione, deve anche apporre la segnaletica, sia di indicazione che quella di avviso, che quella di vieto. Ovviamente se lo fa l'organizzazione, non lo fa l'operaio del comune o il geometra addetto alla manutenzione delle strade, questa persona qui non può essere una persona qualsiasi. Noi sappiamo che la segnaletica temporanea per poter essere collocata anche dalle imprese che fanno l'asfaltatura e i lavori necessitano di avere un particolare percorso di formazione. Quindi questa persona deve essere una persona che almeno deve essere un geometra, deve sapere di cosa stiamo parlando, non basta che abbia la patente, ma in più deve essere anche reperibile per tutta la durata della manifestazione, perché se c'è un problema deve essere in grado di poter dare un supporto reale alla Polizia Locale o ai volontari che in quel momento stanno gestendo il parcheggio. Se viceversa la cosa è gestita in prima persona dall'ufficio tecnico e dal settore operaio, il problema è certamente meno rilevante dal punto di vista organizzativo, almeno per noi come Polizia Municipale. Ovviamente è molto più rilevante per il dirigente dell'ufficio tecnico o dell'ufficio manutenzione. La Polizia Municipale poi cosa fa? Fa anche delle verifiche in loco prima, delle verifiche documentali prima della manifestazione. Attenzione qui invece faccio una piccola disgressione dal punto di vista terminologico, ho usato il termine verifica in modo proprio, perché la verifica è un accertare che ci siano le condizioni per. Il controllo invece è qualcosa che si fa durante e successivamente. Controllo deriva dal francese, che vuol dire contro, averlo contro, rollo, avere un documento dall'altra parte. Quindi il controllo è quando tu hai già un documento e verifichi che quella che è la realtà sia uguale a quello che c'è nel documento. La verifica invece tu vai là e dici, ma io devo fare questa cosa, devo verificare se si può fare. E queste verifiche a volte le facciamo di nostra iniziativa, ma a volte le facciamo anche su richiesta della questura, che almeno la nostra questura le fa e ci chiede di controllare, in particolare dal punto di vista documentale, che questa iniziativa sia stata fatta rispettando tutti i canoni sia della safety e della security, ma anche dal punto di vista della procedura amministrativa. Quindi di fatti diventiamo i controllori dei controllori che è il SUAP, perché il SUAP si rilascia i titoli, ma alla fine della fiera, anzi alla fine dell'evento, è un controllore dell'organizzatore. Quindi noi andiamo a controllare che il controllore abbia fatto fare o stia facendo tutto quello che è previsto. Di solito, e mi sono informato anche delle questure dell'Emilia Romagna, se tutto va bene non diciamo nulla, se c'è qualcosa che non va bene ovviamente ci rapportiamo con l'ufficio di gabinetto della questura per notiziarli che c'è qualcosa che a nostro giudizio non è in linea con quello che doveva essere o la loro richiesta o l'ordinamento sui generis. Come vi dicevo, la polizia locale solitamente in loco a questo punto, non tanto più dal punto di vista documentale, o per meglio dire magari preleva i documenti e poi fa i controlli in loco, durante la manifestazione fa una serie di controlli. Oggi parleremo in particolare quelli di safety e di security, ma noi non facciamo solo quelli. Cosa ci può chiedere la questura? La questura c'è quella che non chiede quasi niente, dice il comandante della polizia locale è pregato di fare i controlli di specifica competenza. C'è chi dice di specifica competenza con particolare riguardo alla viabilità, c'è chi invece si allarga e il termine allarga è già un giudizio. Non dico qual è la questura, però ci sono delle questure che sembra che dettino quello che la polizia locale, sede locale deve fare, dimenticandosi dell'articolo 3 della legge 65 dell'86, che è la nostra legge quadra, che in qualche misura ci tutela, ma ci tutela ma soprattutto rende merito una cosa che noi siamo dipendenti dell'ente locale, noi non siamo dipendenti dello Stato. Il questore è l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, ma dispone degli apparati dello Stato e solo in via eccezionale degli uomini e delle donne della polizia locale. E per poterlo fare cosa dice l'articolo 3 della legge 65, che è la nostra legge quadra, dice che gli addetti al servizio di polizia municipale esercono nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato, inciso, previa disposizione del sindaco quando ne venga fatta per specifiche operazioni motivata richiesta dalle competenti autorità. Ci vuol dire che non basta che loro chiedono, devono chiedere, devono avere una risposta in tal senso da parte del sindaco, del sindaco. Quindi la questura può chiedere tutto, noi solitamente rispondiamo perché risponde la cortesia, rispondiamo in modo collaborativo, ma attenzione, non siamo obbligati a fare quello che dicono se non ci sono le previ intese, salvo che ci troviamo di fronte a delle situazioni eccezionali, ma non certamente in modo ordinario e, come si suol dire, facendo delle frasi facsimile sulle ordinanze di ordine pubblico. Cosa controlliamo? Cosa ci chiedono di controllare? Ma cosa tra l'altro noi controlleremmo comunque tra l'altro? Perché comunque siamo un organo di polizia con la qualità di agenti di pubblica sicurezza, con la qualità di agenti di polizia giudiziaria o di ufficiali di polizia giudiziaria e con la qualità di agenti di polizia amministrativa. Quindi in qualche modo abbiamo le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ma le qualità le abbiamo tutte. Quindi non possiamo neanche poi far finta di niente, semplicemente non ce lo devono dire gli altri, lo deve dire il comandante, lo deve dire il sindaco o quale autorità locale di pubblica sicurezza. Poi vogliamo fare in un ambito più coordinato per evitare di sovrapporci? Va bene, con i dovuti rispetti delle norme istituzionali, delle norme di legge si fa, non è un problema. Dobbiamo controllare le chiusure totali. La chiusura totale non è vietata in una manifestazione, diciamo che non si può chiudere perché devono dare… No, chiusure totali si possono fare. Nel momento in cui nel piano non è stato previsto ed è stato condiviso che quegli accessi che vengono lasciati sono sufficienti per garantire la sicurezza della manifestazione, l'accesso ai veicoli di emergenza, essi siano ambulanze o i mezzi dei vigili del fuoco, nulla vieta di chiudere fisicamente una pletora di accessi che renderebbero complicato il governo e il controllo di chi accede con veicoli, in particolare perché purtroppo per quanto riguarda la security abbiamo ben presente cosa è successo nel recente passato, in altre parti per fortuna non d'Italia ma d'Europa con veicoli lanciati a velocità importanti sulle folle che erano presenti in loco durante delle manifestazioni. Abbiamo poi delle chiusure parziali, quelle che obbligano a fare la chicane che in qualche modo fanno solo a rallentare il veicolo perché non è che possiamo chiuderci in una gabbia dorata e poi pretendere che se uno deve andare all'ospedale voli e quindi dobbiamo anche rilasciarli e sinceramente questi due New Jersey hanno una distanza un pochino abbondante salvo che questa qui sia una via d'accesso per un autocarro dei vigili del fuoco perché allora l'autocarro dei vigili del fuoco ha degli spazi di manovra, dei raggi di curvatura tali per cui se deve passare oppure su questo posto deve passare ordinariamente un mezzo di trasporto collettivo, un bus per capirci un autobus e allora per forza di cose ci deve essere una certa distanza tra i due ostacoli. Viceversa più è vicina la distanza più il soggetto che deve passare in questa chicane deve rallentare e più c'è la possibilità per le persone che sono a valle di mettersi in sicurezza qualora questa persona sia diciamo un malintenzionato che può esserlo per motivi vari compreso la più banale che è l'ebriachezza quindi in modo anche non volitivo ma che nei fatti però produce ugualmente danni. Abbiamo qui queste chiusure parziali o totali dinamiche quelle che facciamo con dei mezzi a volte anche con delle autovetture ma solitamente con dei mezzi molto più pesanti di dimensioni importanti come possono essere dei mezzi agricoli o degli autocarri che messi di traverso lungo la strada e ci permettono di chiuderla o integralmente o parzialmente. Ma cos'hanno di particolarmente interessante e per noi comodo? Che con una chiave si riescono a spostare. Quindi nei fatti riusciamo a fare una chiusura quasi totale ai veicoli, ovviamente i pedoni possono tranquillamente passare anche le biciclette e anche le carrozzine o anche il trasporto per i disabili, le carrozzine per i disabili, quindi non solamente quelli dei bimbi, ma dobbiamo avere sicuramente una persona, un volontario, questo qui può avere anche una formazione scarsa, basta che sappia muovere questo veicolo, una chiave ma sarebbe bene dal punto di vista prudenziale averne addirittura due. Averne una sul posto e una presso il COC o il comando della polizia locale perché purtroppo per la legge di Murphy quando c'è bisogno di una cosa non la si trova mai e questa chiave o il volontario in quel momento magari è andato al bar oppure semplicemente c'era avendo una tasca, ha cambiato la giacca, l'ha lasciata sulla sedia mentre è andato a parlare con degli amici. Altre questioni che dobbiamo verificare per la security è il discorso delle bottiglie di vetro, delle bottiglie e per alcune ordinanze di diversi enti anche delle lattine, perché alla fine se ti arriva in testa una lattina di Coca Cola o di birra, diciamo di una bevanda, perché Coca Cola è una marca quindi dopo potrei fare pubblicità, di una bevanda o di birra che invece è una bevanda generica e ti arriva in testa da 33 cc, non è che faccia bene, non è che faccia meno male di una bottiglia, ovvio che una bottiglia c'è a vetro che oltre a essere un corpo contundente, taglia e abbiamo visto a Torino cos'è successo con le bottiglie, quindi ormai nelle manifestazioni, negli eventi, le bottiglie vengono tutte escluse come sistema di rifornimento di liquidi, perché sappiamo che in certi concerti quando si sta lì 6-7 ore sotto il sole adoperano gli idranti oppure le bottigliette di plastica, ma assolutamente già aperte, di modo che non possono essere anche queste lanciate, perché anche una bottiglietta di plastica chiusa da mezzo litro diventa un oggetto con una certa capacità di offendere. Potremmo farne delle altre, ma andiamo avanti perché abbiamo anche la security da vedere, la safety, scusate. La safety invece l'esigenza è il contrario, mentre prima avevamo degli ostacoli, nella safety dobbiamo verificare che le strade di deflusso e di afflusso siano libere, il più libere possibile, in particolare quelle dorsali che individuiamo come dorsali per gli spostamenti dei mezzi di emergenza, vuoi che siano le ambulanze, vuoi che siano i mezzi dei vigili del fuoco. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio e, quando non troviamo l'equilibrio, differenziare la cosa, tenere luoghi dove applichiamo la security e quindi impediamo, rendiamo difficoltoso l'accesso e il transito, e luoghi invece dove il transito deve essere tranquillamente fluido, senza nessun tipo di ostacolo. Perché? Perché deve andare all'ospedale, perché deve arrivare a un mezzo che c'è un incendio, perché c'è un infarto, perché c'è qualcosa che deve essere movimentato rapidamente. Anche qui abbiamo la necessità di mettere segnalettica, perché a volte vengono servizi di ambulanze di altri comuni, di altre associazioni, quindi è importante che anche qui ci sia tutta la segnalettica del caso per indicare queste vie di fuga e di accesso. Abbiamo poi il divieto, non tanto di bere la birra dentro una bottiglietta di vetero, ma di bere gli alcolici. E diverse ordinanze prevedono il divieto in particolare. Durante gli eventi sportivi e durante gli eventi musicali, di bere i superalcolici o gli alcolici o tutti questi tipi di bevande da oltre lo 0,0 qualcosa, direi 0,4 di alcol, comunque tutti gli alcolici possono essere vietati per motivi di safety all'interno di una determinata, o anche nelle sue immediate adiacenze. Perché ovviamente io prendo una bottiglietta di whisky, la prendo immediatamente 10 metri prima del varco, probabilmente se entro dopo il concerto, entro dopo alla partita di qualcosa, non è che faccia un effetto diverso se la prendo dentro, se la prendo fuori. Dopodiché la Polizia Municipale controlla anche che gli estintori, quelli nel numero e nell'allocazione prevista dal piano di emergenza ci siano, possibilmente che siano anche con i cartellini e in corso di validità relativamente sia all'involucro, sia alla valvola, sia al tipo di estinguente e all'estinguente in quanto tale come, diciamo così, capacità di estinguere perché è ancora in validità come prodotto da poter utilizzare. Oltre agli estintori, ovviamente, ma qui è un problema, diciamo che nel momento in cui vengono chiamati loro ci sono, salvo che vengono chiamati in un altro momento sulla contingenza, che ci sia il gruppo delle vigili del fuoco, mentre il volontario, diciamo così, l'addetto antincendio deve quasi sempre esserci, i vigili del fuoco ci sono dei parametri numerici dopo i quali è obbligatoria la presenza di un gruppo di vigili del fuoco, prima no, quindi gli eventi di ridotte dimensioni non è necessario, ma questo non è un problema della polizia municipale perché noi guarderemo il piano di sicurezza e vedremo se c'è scritto che ci devono essere, verificeremo se ci sono, se c'è scritto niente, vorrà dire che se ci sono è un di più e se non ci sono ne dovremo fare a meno, semplicemente una cosa abbastanza lineare, invece quello che dobbiamo verificare sia nella parte ante, nella durante un po' meno che diventa complicato, che i volontari antincendio siano quelli che sono stati indicati e che abbiano fatto il corso e abbiano attestato, ovviamente questa cosa qui solitamente si fa prima della manifestazione, dopo si tengono semplicemente i nomi e l'organizzazione comunica che al posto di Pinco Pallino viene Tizio Caio con altro titolo idoneo, oppure che dice guarda, te ne ho comunicati 15, ero obbligatorio solo 12, due sono rimaste a casa perché hanno avuto l'influenza e quelli che c'erano sono già sufficienti comunque perché ce ne avevano addirittura in più di quelli che erano dovuto. L'importante è che abbiano il titolo che li rende idonei per fare questo tipo di attività antincendio. Abbiamo poi i servizi sanitari che si possono espletare o con pattuglie piedate o attraverso l'utilizzo di un'ambulanza o addirittura con dei punti di primo soccorso e questo è tutta roba che è indicata all'interno della pianificazione di emergenza che si fa in base delle tabelle particolari che dovranno degli algoritmi, a cui noi semplicemente dobbiamo prendere atto di quello che il tecnico incaricato dall'organizzatore ha scritto e fatto e detto e noi dobbiamo semplicemente leggerlo e prenderne atto e verificare che ci sia. Tante volte il servizio ambulanziale c'è e non è previsto, ma come si suol dire nel di più il meno ci sta sempre. Vado un po' più di corsa perché vedo che il tempo sta diventando tiranno. Un'altra cosa che dovremmo verificare e che sarebbe bene che anche noi ne fossimo dotati, io adesso entro a fine dell'anno farò in modo di acquistare nel meno uno, è quello di avere un megafono perché le manifestazioni più importanti hanno solitamente un sistema interfonico via cavo, via wireless che parla con delle trombe collegate ordinariamente ai punti luce presenti durante la manifestazione, ma se ciò non dovesse esserci almeno uno o due megafoni in mano all'organizzatore e in mano alla polizia municipale ci devono essere, perché se devi gestire fino a 20, 30, 50, 100 persone con due urli forse ci riesci, ma se comincia a diventare di più la gente, le distanze sono importanti, ci vuole uno strumento di amplificazione tale per cui i soggetti che sentono capiscono in modo ben distinto qual è la tua volontà e cosa devono fare. Il costo è veramente irrisorio, quindi ritengo che tutti i colpi di polizia municipale si debbano adottare di uno o due megafoni di quelli manuali, perché quasi tutti li abbiamo, ma li abbiamo incorporati nei sistemi delle bitonali, delle sirene dei veicoli, ma a volte il veicolo in quei posti li non riesce ad accedere e quindi è opportuno averne invece il classico megafino, quello che usavamo nei campeggi o perché ha fatto attività studentesca quando si facevano i cortei studenteschi. I safety potremmo controllare altro, ma noi abbiamo una cosa molto particolare che è mista fra la safety e la security. Come si suol dire, Houston, noi abbiamo un problema. E qual è il problema? Abbiamo il problema dell'interazione fra la safety e la security, che è un go-stop, è un stop-go. Mi spiego. La circolare del capo della polizia del 2017, la circolare Gabrielli, dice che il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro della garanzia di safety e di security necessariamente integrate. Facilissimo. In quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno avere luogo. E vabbè, tu dici, l'ha detto, no, no, ha detto dell'altro, ha detto significando che mai, non qualche volta ogni tanto, no, che mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento comunque di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di safety. Allora, la cosa diventa un pochino impegnativa, perché se la manifestazione deve ancora iniziare, ma forse ci riusciamo a fermarla, se non abbiamo tutta la safety, diciamo che ci deve essere. Ma se la manifestazione è già iniziata, la vedo complicata, ma molto complicata, perché potrebbe essere veramente più il danno che andiamo a fare, che il beneficio che ne possiamo trarre. E in ogni caso, come si suol dire qua, ET DOCET, ET telefono casa, qui si prende il telefono, si chiama l'ufficiale di riferimento della questora, che è l'ufficio di gabinetto, e si dice, cari miei signori, visto che nell'ordinanza del pubblico siete scritti di notiziarvi di ogni emergenza, io vi notizio di questa emergenza. Ditemi cosa c'è da fare. Tra l'altro lui dovrebbe essere lì, o comunque dovrebbe venire lì, o comunque dovrebbe aver incaricato un ufficiale dei carabinieri per assolvere questi compiti, non noi. Poi nell'emergenza, in un'ottica di tutela della collettività, della comunità locale dove noi lavoriamo e che ci paga lo stipendio, facciamo quello che si deve fare e che si può fare. Però ci sono certe situazioni in cui effettivamente la situazione non è di semplicissima gestione e quindi ET telefono quest'ora. Poi cominciamo a fare quello che invece facevamo anche prima, che abbiamo sempre fatto. Cominciamo a fare i controlli di titoli autorizzatori per effettuare l'attività, quindi diciamo le licenze che possono essere quelle per gli spettacoli, quindi dall'articolo 68, possono essere quelle per i pubblici esercizi dall'articolo 86 o dalla 267 e dalla 285, oppure dalla regionale 14, a seconda se siamo in Emilia Romagna o da qualche altra parte. Verifichiamo i prezzi per la tutela del consumatore, perché se c'è un evento importante dove c'è della vendita di prodotti, anche nei concerti vendono le magliette e anche chi vende le magliette deve rispettare la normativa per tutelare il consumatore, la corretta occupazione del suolo pubblico, il rispetto degli orari dell'attività, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista del rumore che questa attività potrebbe provocare, la viabilità e la circolazione dinamica e statica in se stessa, indipendentemente della safety e della security. C'è l'ultima cosa che noi della Polizia Municipale ci tocca, forse ci piace anche, perché probabilmente se no avremmo fatto un altro mestiere, che è la parte delle segnalazioni e delle sanzioni, sanzioni che possono essere amministrativa e penale. A seconda se ovviamente ci sono state le violazioni, perché se siamo stati così bravi da riuscire a creare le condizioni perché nessuno abbia violato niente, meglio. succede qualche volta che siamo stati così bravi, qualche altra volta, anche se noi siamo stati bravi, qualche dono è birichino dall'altra parte, oppure non ci siamo spargati bene, oppure le norme sono tali per cui c'è della confusione, sta di fatto che qualche volta c'è da segnalare delle irregolarità oppure di fare delle violazioni. La questione è abbastanza ingarbugliata, perché se è relativamente semplice nel campo amministrativo farlo, negli eventi, è un'altra cosa che è, perché individuare il trasgressore e l'obbligato insolido non è così complicato, non è così difficile. Il trasgressore è appunto colui, lo dico per i colleghi del suo, che trasgredisce, colui che materialmente fa l'azione. L'obbligato insolido invece è ordinariamente il proprietario della cosa, ma qui non c'è una cosa, c'è un'attività e quindi applichiamo il secondo secondo il terzo comma dell'articolo 6 della legge 8.9 che dice che se la violazione è commessa dal rappresentante o da un dipendente, di una persona giuridica o di un ente privo di prestazione giuridica o comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente è obbligata insolido con l'autore della violazione al pagamento. Quindi l'obbligato insolido concretamente è semplicemente uno che deve pagare in luogo del trasgressore e poi eventualmente si potrà rifare lui in modo civilistico sul trasgressore. Ma il vero problemino sugli eventi è la responsabilità penale, perché nel nostro ordinamento giustamente l'articolo 27 della Costituzione dice che la responsabilità penale è personale, mentre là in qualche modo se noi facciamo la sanzione al legale rappresentante del bar che ha organizzato quella manifestazione, delle gare rappresentanti di quell'associazione che ha fatto quell'evento o dell'agenzia che ha organizzato quel determinato concerto, la responsabilità oggettiva in campo penale è veramente molto 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 residuale. Quindi dire ipsofatto questo qui è quello che ha chiesto, è quello che io devo segnalare, devo tra virgolette far condannare, segnalare alla magistratura con una notizia di reato, non è così scontato, bisogna vedere, fare una vera e propria indagine, capire chi ha fatto cosa, quali erano i suoi campi di autonomia per poterla fare, perché se no rischiamo poi di lavorare senza portare a casa il risultato che è la sanzione. Ma non è che sia un grande risultato, ma è giustizia, perché se l'ordinamento prevede che a fronte di qualcosa che non andava fatto, c'è una sanzione penale, qualche d'uno se ne deve fare carico e qualche d'uno deve essere alla fine condannato per questa cosa. Ma perché vi parlo del penale? Perché negli eventi abbiamo una certa importanza del penale. L'articolo 9 dice, oltre le condizioni stabiliti da legge, chiunque ottenga un'autorizzazione deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga ad impogli nel pubblico interesse. Abbiamo una scaletta di gradazioni di questa violazione. La prima è il 681 del codice penale, che tutela l'incolumità pubblica, vado un po' cortino perché siamo rimasti 25 minuti, che tutela l'incolumità pubblica con bene giuridico molto molto importante, che è tutelato appunto che dice, chi non rispetta le prescrizioni osservate dall'autorità, a tutela dell'incolumità pubblica è punito con l'arresto fino a 6 mesi e via dicendo. Quando è che siamo in questi casi? Quando ad esempio superiamo la capacità di affollamento, il numero delle persone presenti, la capacità di deflusso, cioè le porte che devono far andare via le persone sono di dimensioni più piccole di quelle che devono essere, la staticità delle strutture non è garantita, gli impianti elettrici non sono fatti a norma, i negozi, gli autonegozi con le bombe di GPL non sono stati montati e costruiti nel modo che devono essere, oppure non c'è il rispetto del numero degli operatori di sicurezza che ci devono essere, quindi gli addetti antincendio e le altre figure. E questo è un ragionamento molto delicato. Teniamo più presente che l'articolo 10, in particolare sugli eventi che durano più giorni, gli dice guarda che se tu sbagli potrei anche farti sospendere l'attività per giorni successivi. Dopodiché deve essere chiaro che 681 non è solamente tu non hai la licenza dell'articolo 80, ma tu hai avuto una licenza dell'articolo 80, non rispetti le norme, tutte quelle clausole che io ti ho messo nella licenza. Ma adesso andiamo a un secondo livello, quello del 17 TULPS. Il 17 TULPS è anche lui una norma penale che protegge l'interesse pubblico, che è appena un po' inferiore di quello che abbiamo visto prima. Prima non era interesse pubblico, era incolumità pubblica, qui c'è un interesse che però è importante e quindi tutelato penalmente e dice che se non è stabilita una specifica violazione penale o amministrativa e ti ho detto che devi fare una cosa e non la fai, io ti sanziono con l'arresto fino a tre mesi. Vedete che prima era sei mesi, quindi è leggermente inferiore. Dice dov'è che lo vado a scrivere queste cose? Nelle ordinanze messe dai sindaci, dai questori e dai prefetti, ma anche dai sindaci. Quindi capite che ad esempio la gestione corretta dei parcheggi, non tanto se parcheggia male la macchina del parcheggio, se non apro o non chiudo la manifestazione in termini previsti, perché questo crea un problema di interesse generale. Ma abbiamo anche altre questioni, anche qui io posso sospendergli l'attività per i giorni successivi, perché lo dice l'articolo 10. Attenzione però, non è sufficiente che la commissione provinciale, la commissione comunale dica che l'attività deve essere fatta con certe caratteristiche, dia le prescrizioni della commissione. Queste prescrizioni devono essere trascritte nel titolo oppure in un'ordinanza, vuoi che sia poi del prefetto, vuoi che sia del questore, vuoi che sia del sindaco, deve essere scritta. La commissione è un organo che rilascia un parere obbligatorio, ma non è vincolante, è un parere obbligatorio, ma il soggetto che deve poi dopo agire, cioè il dirigente per l'articolo 80, oppure il questore prefetto con autorità locali, tecniche o politiche di pubblica sicurezza, devono poi essere conseguenziali, se no la mera iscrizione all'interno della commissione non costituisce titolo per poter fare un illecito penalmente rilevante. Questa cosa qui la saltiamo perché se no rischiamo di non… ma vabbè, ve dico lo stesso, diciamo che la cosa un po' strana è che se io faccio, se io apro un bar o apro una discoteca senza licenza, la sanzione è amministrativa, se non rispetto le prescrizioni che mi dà la commissione e che poi dopo vengono tradotte, trascritte nell'atto, la sanzione è penale. Giusto, sbagliato, è così da anni, il legislatore ha voluto lasciarla e noi così ce la teniamo. Avevamo detto che non solamente gli spettacoli che sono soggetti alla safety e alla security, ma anche tutte le riunioni, purché siano fatte in luogo pubblico, non all'interno di un teatro, di un cinema o di una stanza, oppure all'interno di un campo privato chiuso. La Corte Costituzionale nel 1958, con la statenze numero 27, ha detto assolutamente che le riunioni sono consentite a tutti i cittadini, però quelle che vengono fatti in luogo pubblico devono essere comunicate preventivamente al questore almeno tre giorni prima. Il ragionamento più o meno semile viene fatto anche per i cortei civili, ovvero le processioni, però anche qui solamente quando i cortei e le processioni sono fatti in luogo aperto. Solitamente così avviene, perché i cortei e le processioni raramente sono fatte all'interno di aree private, ma avviene ad esempio qui a Quattro Castella, a Salvarano, c'è una processione, che è all'interno completamente di un'area privata di un proprietario di un castello, che chiude il cancello e la processione la si fa dal cancello in avanti fino alla chiesetta dove ci sono queste reliquie di questi santi e quindi la cosa viene fatta completamente in area privata. Nei fatti la comunicazione la fa lo stesso perché l'assemblamento è all'esterno del cancello, ma dal punto di vista formale non ci sarebbe bisogno di fare nessuna comunicazione. Abbiamo poi il terzo livello, che è puramente amministrativo solitamente, ed è quello degli interessi secondari o di dettaglio, ma non è che siano poi sempre così secondari, perché se noi troviamo all'interno di una fiera degli operatori su area pubblica, cioè degli ambulanti che sono senza licenza o che vendono cose ad esempio non consentite, dobbiamo in qualche modo anche in questo caso sanzionarli, quindi dobbiamo controllare la viabilità, l'esercizio, gli commerci ambulanti, la sosta, ma la sosta facciamo i classici diviti di sosta, non è che andiamo a denunciare a qualcuno perché a me non metta la macchina in un luogo veramente inguardabile, ma solitamente applichiamo il codice della strada. Dove invece c'è un diversa atteggiamento altarenante è ad esempio sulle bottiglie, perché qui nessuno ha la verità in tasca, però c'è chi ritiene che questo precetto sia un precetto da sanzionare amministrativamente, c'è chi invece fa o il 650 o altre norme di rilievo penale. L'importante è che non facciamo una cosa durante una manifestazione e quella dopo il contrario, almeno come singolo organo di polizia direi anche come vari organi sarebbe meglio mantenere una posizione costante nel tempo, l'ideale sarebbe a livello di singola provincia. Vado in conclusione, sono stato più bravo del previsto. Ringrazio Formez per avermi dato questa opportunità di parlare indirettamente con voi, poi adesso vi leggerò per capire quali sono le vostre perplessità, alle quali io spero di riuscire a dare risposta, se non riuscirò a dare risposta in immediato mi documenterò e spero di dare delle risposte anche coerenti con quello che ho detto, ma soprattutto coerenti con l'assetto normativo. Oggi però, che sia chiaro, abbiamo parlato della safety e della security in eventi autorizzati, non un ref party abusivo, che è tutto un altro mondo affrontato in un'altra maniera. Ho detto quello che è doveroso e legittimo fare, non quello che forse dovremmo o che altri vorrebbero che facessimo. Io ho dovuto dire, perché il ruolo me lo impone, quello che possiamo e che non possiamo fare, ma non è sempre detto che risponda alle esigenze della collettività e in una qualche misura anche degli organizzatori, ma noi possiamo muoverci solo ed esclusivamente all'interno delle leggi che ci governano e che altri, i nostri amministratori e il nostro governo ci dà. Grazie dell'attenzione, come vi dicevo adesso apriamo il question time, spero di essere in grado di rispondere alle vostre domande, che mi auguro siano coincise e semplici, ma soprattutto che le abbia già affrontate, che così riesco a dare una risposta. Se no, le invierò e spero che le risposte che sarò in grado di darvi siano anche risposte operative, nel senso che vi servano poi. Allora, intanto chiediamo modo al commissario di poter leggere tutte le diverse domande nel box apposito, vi do una comunicazione di servizio, ovvero ho sentito poco fa la dottoressa Corradi e a breve avremo le risposte al suo webinar, chiedeva scusa per il ritardo, ma ha avuto un inconveniente di salute che è tutto rientrato, fortunatamente tutto è andato bene, dunque a breve ci saranno le risposte anche di quel webinar. Altra cosa, volevo far presente tutti i ringraziamenti e tutti i complimenti che ci sono ora nella chat per la trattazione che si è appena tenuta, così intanto diamo ancora qualche attimo al docente per poter poi rispondervi. Ricordo che quelle a cui non verrà data risposta, poi comunque le troverete tutte sulla solita pagina di Eventi PA. A questo punto rilascio la parola al commissario, prego. Allora, sto vedendo che sono molte domande che secondo me purtroppo sono poste in modo dettagliato e pertinente, ma faranno fatica a trovare in me un soggetto non tanto in grado, ma con la competenza di dettaglio per rispondere, perché sono per lo più domande che dovrebbero andare alla Miranda Corradi che io stimo moltissimo, ovviamente lei fa un altro mestiere, io ne faccio un altro anch'io. quindi adesso cerchiamo di capire, perché alcune cose possono proprio riguardano la documentazione che io, come ho detto, io prendo atto della documentazione che è presentata, prendo atto che le due commissioni, quella comunale e quella provinciale, avvalano delle cose e poi viene rilasciato un titolo o un'ordinanza da parte del sindaco, se sono eventi non soggetti a titolo proprio, ma noi come Polizia Locale andare nel merito dei calcoli di quanta persone e quante non persone non entriamo. Sto leggendo adesso le varie domande. Allora, per gli impianti elettrici temporanei realizzate in cascato da molto generatore in occasione di un evento commerciale su area pubblica, somministrazione di elementi e bevande dovute alla dichiarazione di conformità alla regola d'arte. Se sì deve essere data secondo la legge 186 e non il DM, questa qui è roba che mi trova leggermente, anche da figlio di elettricista, leggermente fuori tema dal mio punto di vista, nel senso che faccio fatica ovviamente. Se sì la direzione della data di senso della legge deve essere, questa qui devo chiederla al nostro tecnico, al nostro elettrotecnico che è in commissione, se è firmata un tecnico abilitato. Allora, problemi di impianti elettrici. Adesso sinceramente vado più per esperienza di fatti specie che ci siamo trovate in sede di sopra luogo da parte della commissione, in diversi anche Luna Park. Allora, sicuramente nella misura in cui c'è un impianto che porta la forza motrice dal punto di prelievo generale fino al secondo punto di prelievo, quello più prossimo all'attività, vuoi che sia poi una giostra di un Luna Park, una trazione, vuoi che sia un'attività commerciale, fino a quel punto dove c'è una nicchia fisica, solitamente le cosiddette scatole conchiglia, fino a quel punto deve essere certificato sicuramente da un elettrotecnico, solitamente lo fa a monte, ce lo fa prima dell'iniziativa. Il punto di prelievo in sé, invece, solitamente è un cavo che permette di connettere la nicchia, quindi la scatola che in qualche modo deve essere poi anche chiusa a chiave durante il resto della giornata quando non è utilizzata e l'utilizzatore è una prolunga, questa prolunga deve essere fatta di per sé e marchiata, c'è il metodo dell'elettrico italiano, non c'è che è un'altra roba, che non c'è n'export e deve avere determinate caratteristiche, cioè è il cavo in sé che deve essere in regola. Se poi questa cosa qui non va a un semplice utilizzatore, semplice appunto come dicevo prima, ma serve per alimentare un complesso elettrico, quindi una serie di utilizzatori e di sottoutilizzatori, mi spiego, se ad esempio deve alimentare un'automarket che fa le piadine o che fa le patatine fritte e tiene a dei riscaldatori con delle resistenze elettriche invece che a gas, perché magari ritiene che il gas sia troppo pericoloso e c'è un impianto elettrico proprio sopra all'automarket, questo automarket a sua volta deve avere una certificazione di impianto, quindi diciamo così che la parte volatile è semplicemente la prolunga che mette in connettività la nicchia conchiglia con l'apparato, oppure la nicchia conchiglia con la presa di forza di quella determinata giostra o di quella determinata attrazione per il Luna Park. Direi che a questa domanda mi pare di avere risposto. Teniamo presente, ribadisco che io sono solo figlio di un elettricista e ho assistito a dei tecnici, appunto dei periti elettromeccanici che durante i sopraluoghi nelle commissioni che controllavano il Luna Park davano parere a voce alta e conseguentemente ho appreso questi tipi di informazioni, ma non ho una competenza, quindi prendetela quello dovuto mollette solo come neanche un consiglio, una derelata. Vi riporto quello che ho sentito. Allora, quando si richiama le feste di paese e quelli che cercano di dirigere il traffico e dirotto nella macchina dove decidono loro, la mia domanda è se si può rifiutare il cittadino di dirigerci dove ci indica il personaggio della protezione civile, in cosa si va incontro se ci si rifiuta. Allora, domanda interessante. Diciamo che comunque in ogni caso quel personaggio che sta rifacendo quel compito di deviazione del traffico è una persona incaricata da noi, non è un pubblico ufficiale, direi che però un incaricato di pubblico servizio sì. Quale potestà ha nei confronti di questa persona? Allora, il codice della strada dice che solamente le segnalazioni che siano esse semaforo sostitutive diciamo così, quindi per muovere i flussi all'interno di un'intersezione oppure di deviazione devono essere fatte con certe caratteristiche anche messaggistiche col corpo, con le braccia e via dicendo, ma devono essere fatte da un soggetto qualificato e quindi a mio giudizio deve essere un organo di polizia. Se però c'è la segnaletica verticale o orizzontale, orizzontale provvisoria ovviamente e verticale altrettanto provvisoria e il soggetto è solamente di supporto, di ripetizione, di spiegazione di quella che è questa segnaletica, il soggetto che viola comunque è violato l'articolo 7 del codice della strada o quell'altro articolo che era il 41 secondo dei casi e sicuramente è sanzionato, nel senso che l'incaricato che in quel momento è lì della protezione civile o volontaria che dir si voglia, ci farà due righe di relazione e noi dopodiché chiameremo il soggetto, gli chiederemo il perché si comporta in questo modo e ritengo almeno per quanto mi compete che la sanzione non gliela toglie nessuno, poi se non è d'accordo farà ricorso a chi di dovere. Ma se c'è la segnaletica verticale e il soggetto ha semplicemente ripetuto una cosa o anche ci fosse semplicemente una transena di traverso anche senza il divieto, lui chi è? E' vero, questo qui, perché dicevo che devono avere una qualche forma di divisa che identifica questa persona come qualcosa che non è un cittadino qualunque? Perché queste cose qui anche il giudice di pace, quando si trova poi uno che dice guardi mi rato in uno con un giacchettino arancione, si era scritto sopra servizio supporto alla manifestazione e mi ha detto che, beh perché lei non l'ha fatto? Ah ma perché io faccio quello che mi pare, credo che la cosa nella risposta stia già nella domanda. Allora, è possibile utilizzare i volontari di servizio civile? Questa qui è una domanda purtroppo oziosa, l'ho spiegata, per il Ministero degli Interni e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri la protezione civile in quanto tale come organizzazione non può essere utilizzata salvo che venga attivato il COC per determinati tipi di manifestazione che richiedono la presenza della protezione civile, perché questo tipo di evento è tale per cui quel territorio, quella frazione, quel comune, quella zona non riuscirebbe in modo assoluto a sopportare un impatto che quella manifestazione provoca, quindi è opportuno e necessario utilizzare la protezione civile, ma perché diventa un intervento di protezione civile, non per niente viene attivato il COC con tutto quello che ne consegue. Discorso diverso è utilizzare le persone, gli uomini e le donne della protezione civile per compiti non propri. Abbiamo visto che la circolare è non interpretabile, è chiara, non condivisibile forse, ma non lascia spazio a grandi interpretazioni, però dà la via di fuga ti dice, io non vengo come appartenente alla protezione civile, vengo come GEV, vengo come antincendio boschivo e vengo con i mezzi dell'antincendio boschivo e non della protezione civile e quindi a questo punto agisco in un'altra veste, con un altro vestito, a questo punto le possiamo usare, gli diamo, non gli diamo, rimborso spese, questi sono altri problemi che io in un momento non ho modo e non voglio neanche affrontare, però ci sono associazioni che a fronte di determinate prestazioni hanno dei contributi per fare le loro attività, tra l'altro tutte emerite a fine collettivo, per cui se c'è le disponibili, il vero problema è che a volte purtroppo abbiamo dei volontari che loro o delle associazioni che sono loro che dicono che non possono e quando chiedono, ma io lo faccio solamente se c'è un operatore di polizia locale o di stato, un carabiniere o un'altra figura istituzionale, un polizia provinciale che è lì nell'immediatezza, credo che la richiesta sia non solo legittima, anche pertinente sinceramente, anche pertinente, non vuol dire che loro non possono stare da soli perché se c'è semplicemente da guardare una transenna ferma e da spostarla perché ad esempio i residenti possono entrare e gli altri no, lì una figura di polizia sinceramente è sprecata, ma nell'attraversamento di una statale, perché questa manifestazione in modo a volte un pochino discutibile è metà da una parte e metà dall'altra, credo che un organo di polizia nelle vicinanze o immediatamente chiamabile a qualora ce ne sia la necessità sia non solo opportuno, ma doveroso, non si può lasciare tutta una manifestazione con degli attraversamenti di statale o addirittura della gestione di intersezione senza nessun presidio ufficiale che poi sia polizia locale, polizia o addirittura statale è un altro discorso, ma qualche dono ci deve essere lì nella manifestazione, perché se no i volontari, se sono tutte bravissime persone, magari professionalmente sono capaci di fare le segnalazioni stradali meglio di tante persone che lo dovrebbero fare professionalmente, però non credo al di là del divieto della circolare che sia opportuno fare ciò. Andiamo avanti. La commissione comunale dovrebbe avere per tempo attraverso il suo app tutta la documentazione, quindi ogni membro della commissione potrebbe prima della commissione esprimere pareri parziali ed eventuali prescrizioni. Al fine, al momento della commissione, si discute rapidamente, venne già espresso. Secondo il sindaco è un organo politico e non dovrebbe partecipare alla commissione, anche se la legge 311 lo richiama. Nello stesso tempo il sindaco dei comuni è capo dell'APS e quindi ne avrebbe il diritto. Se mi dice se ha ragione lo Stato dell'Avvocatura di Stato, alzo le mani perché io chi sono da avere il mio parere nei confronti di un'Avvocatura di Stato e dello Stato con una legge. Questo per quanto riguarda la presenza o meno del sindaco all'interno delle commissioni. Sinceramente io non la vedo male, devo essere molto sincero, perché il primo cittadino che è anche nel 90% dei comuni d'Italia, se non saranno 90% saremmo lì, forse anche di più, autorità locale di pubblica sicurezza, è bene che ci sia secondo me, anzi è un compito che io lo vedo proprio. Il fatto che i componenti invece abbiano il materiale prima, questo lo trovo una cosa interessante e intelligente, perché improvvisare non porta mai bene, improvvisare per noi della polizia locale purtroppo è spesso una necessità perché quando ti trovi nella contingenza devi fare qualcosa, lo devi fare presto, possibilmente bene e possibilmente anche conformemente alle leggi o almeno ai principi delle leggi, ma se tu hai il tempo per poterti documentare, guardare le cose, meglio, sicuramente meglio, se la segreteria della commissione invia per email, dico neanche per PEP perché non ce n'è bisogno, per email, ai componenti tutto il materiale, mica materiale segreto, si guarda, si esprimono delle valutazioni, si esprimono delle prevalutazioni e poi però la commissione si deve fare, al momento la teleconferenza la vedo ancora un pochino futuristica, non escludo che arriveremo a farle, però al momento credo ancora nelle riunioni delle persone che si incontrano, questa commissione come dicevo è una commissione perfetta che esprime a parere sostanzialmente all'unanimità, ma se va là documentata, se va là già consapevole di tante cose, sicuramente è meglio. È legittimo in caso di manifestazione evitare più giorni la circolazione anche ai residenti? Sì. La circolazione veicolare? Sicuramente. La circolazione pedonale è una cosa un po' più delicata, ma la circolazione veicolare sicuramente. Ovvio che la cosa l'ha fatta con buon senso, vedo che c'è lo zero, quindi ritengo che il tempo a mia disposizione sia finito, però mi mancava solamente una risposta, quindi ritengo di avere complessivamente dato anche delle risposte, spero corrette, anzi direi insomma che è escluso quella dell'elettricità sulla quale non ho competenza tecnica, per il resto direi che sono pertinenti, quelle che invece non lo erano le ho saltate perché sono cose molto molto tecniche che riguardano la parte istruttuale. Grazie, grazie mille e tanto a breve gliele invierò tutte e così avrà tempo per rispondere. Ringrazio veramente e le riporto tutti i ringraziamenti che ci sono in chat per la sua professionalità, chiarezza, competenza, dunque grazie veramente, grazie a tutti voi per aver partecipato, vi preannuncio che a novembre ci saranno altri webinar, dunque vedete sempre la nostra pagina di eventi IPA, il nostro calendario, grazie ancora a tutti per aver partecipato, grazie alla dottoressa Paron, veramente un abbraccio di cuore e a presto. A tutti! Volevo ringraziare anch'io la ragione che oltre a Formez che mi ha dato questa opportunità perché credo che sia importante che si mettano in comune le esperienze, magari anche non sempre diciamo formalmente corrette, ma metterle in comune permette...